Siamo per ai compagni braccianti e gente dei quartieri Siamo studenti, pastori sardi divisi fino a ieri lotta, lotta di lunga durata lotta di popolo armata lotta continua a sanar l'unica cosa che ci rimane è questa nostra vita ma allora compagni usiamola insieme prima che sia finita lotta, lotta di lunga durata lotta di popolo armata lotta continua a sanar una lotta dura senza paura per la rivoluzione non può esistere la vera pace finché vivrà un padrone lotta, lotta di lunga durata lotta di popolo armata lotta continua a sanar lotta, lotta di lunga durata lottaорошante lotta di mal lotta di popolo armata lotta di casa lotta continua a sanar lotta continua a sanar Grazie a tutti.